Fra le proposte viste a Firenze, qui siamo a Palazzo Strozzi dove le case fanno le loro vendite, vi è il ritorno della Midi, questi sono modelli di Nelson, delle Midi che speravamo decisamente superate e che pare invece voglia affermarsi. Piena di colori dell'estate, rosa, fragola, turchese e azzurro, la collezione di Sarli stampata a gabbiani che volano sulle onde in una girandola di abiti pensati soprattutto per il mare. L'ancetta è riproposto i temi della sua collezione d'alta moda di luglio, completi albicocca, giallo, celeste, giacche con pantaloni o gonne e gli chemisiers d'obbligo con la giacca di lana. Per la sera dei bellissimi gilets ricamati su gli chemisiers lunghi di chiffon. Anche Heinz Riva ovviamente ha ripetuto i motivi della sua alta moda, soprattutto nella lavorazione delle spalle e delle maniche e nel plisset soleil, questo è un abito in plisset bleu con la seconda gonna rossa e sempre in plisset con lo stesso modello e il bellissimo abito lungo arancione, caratteristiche le pettinature di famsistina bombate e arrotondate. Antonelli che dall'anno scorso presenta solo il pret-à-porter e non più l'alta moda ha fatto una collezione originale, riuscendo a rendere giovani e moderni i temi più classici, il tailleur bianco e bleu, gli chemisiers, la red d'un got a poire e gli abiti lunghi a righe, che sono un motivo ricorrente negli stampati per il prossimo anno. A Roma anche Valentino ha presentato la sua collezione di pret-à-porter, indossatrici con berrettini di cotone all'uncinetto e occhiali, tessuti con allegri stampati di frutta, pere, ciliegie, arance, chicchi di caffè, poi giacche a camicia da uomo con righe dappertutto alternate ai disegni, collane d'avorio e tartaruga, molti pantaloni, pochi abiti e sempre oscinisi, poi il quadretto gigante alternato alle righe, in bianco e marrone o bianco e azzurro carico. E ancora le righe bayadera, turchese, verde, viola, arancio, giallo, amice negli abiti, nelle giacche, nei pullover, negli abiti lunghi, un insieme di stupendi colori in una linea sobria e pratica.